Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it Sarete curiosi di sapere cosa sta sotto questo Android E sotto nella confezione è questa scritta Kickstarter Limited Edition Nella realtà mi sto facendo un'illusione perché se avete premuto sul video sapete già che cosa state andando a guardare Questo che c'è qua sotto è uno SpinPod Che è un simpatico accessorio che ho acquistato tempo fa su Kickstarter E che mi ero assolutamente dimenticato di avere appunto ordinato E che ho ricevuto un po' a sorpresa non avendo seguito la mailing list Questa è la confezione, devo dire molto bella, molto ben fatta La versione questa ovviamente per chi ha finanziato il prodotto su Kickstarter Che cos'è? Allora, questa è una base che ci permette di far ruotare in modo temporizzato uno smartphone Ci sono degli accessori C'è questo che è una specie di gancio per tenere fermo lo smartphone Una busta per portare in giro lo SpinPod Un piccolo manuale riassuntivo che fa molto molto comodo Vi spiegherò perché Questo aggancio per fotocamere E questo cavetto per la ricarica Allora, avete quindi già capito che è un prodotto che va a energia elettrica Perché c'è ovviamente un caricabatterie e si ricarica tramite questa porta messa qua dentro Non comodissima la posizione ma comunque funzionale Questo è prodotto da due parti che poi vedrete ruoteranno È presente un foro per montarlo su di un cavalletto Insomma, è pensato, devo dire, molto molto bene Cosa può fare? Può far realizzare Può far realizzare delle foto panoramiche perfette O dei timelapse in movimento Al nostro smartphone Allora, adesso io vado a Prendere questo Note 3 E vi faccio vedere l'idea L'idea sarebbe quella di inserire il Note 3 in questo foro Direi che non è pensabile Il foro è pensato principalmente per chi ha un iPhone O comunque uno smartphone di dimensioni più compatte Cosa succede se abbiamo un dispositivo così grande? Succede che andiamo a utilizzare questo Unito a questo gancio Quindi li blocchiamo insieme Ecco qua E lo andiamo a inserire qui dentro Questa rotellina è la rotellina che serve ad accendere lo SpinPod Allo stesso tempo Dopo un po' che la ruotiamo si accenderà questa lucina Va anche a uscire quella parte lì dentro La vedete che serve a bloccare Quindi accensione e blocco sono la stessa rotellina Che è una cosa abbastanza furba Prima di andare a inserire questo dentro Andiamo a sistemare lo smartphone Perché è assolutamente più comodo Assicuriamoci che si blocchi Può contenere ancora smartphone più grandi di un Note Anche se non di moltissimo Quindi una volta che l'abbiamo inserito qua dentro Vado a muovere la rotellina Finché la luce non si accende Prima e poi lo smartphone non si blocca dopo Ecco qua Abbiamo due modalità di funzionamento Quindi quella panoramica Che è la luce blu E quella timelapse Che è questa luce rossa Il secondo tasto Che è una superficie touch Permette di temporizzarlo Ovvero Il panorama Ha la possibilità di temporizzare all'inizio Quindi possiamo ritardare la foto Per fare magari un autoscatto E comparire all'interno del panorama Il timelapse invece permette di È tutto scritto su questa card qua Permette di scegliere In quanto tempo fargli fare un giro completo Mezz'ora Un'ora Due ore Cinque ore O addirittura A 10 ore 10 ore Capite bene Il simbolino ve lo fa intuire Permette di fare dei bellissimi timelapse In movimento con le stelle È possibile anche scegliere In quale senso far ruotare lo spinpod Facendo questa cosa qui È molto sensibile E funziona molto bene Un tap Ci fa passare tra le due modalità Un tap prolungato Avvia La registrazione Se io qua su note Scelgo Foto panoramica Ecco qua Ovviamente voi da lì Da questo prospettivo Non potete vedere Ma avvio la foto Dopodiché Tengo premuto E inizia a girare In questo modo Lo spinpod farà Una foto panoramica Assolutamente Perfetta La velocità Con cui gira Devo ammettere Non mi sembra Proprio perfettamente Costante sul panorama Probabilmente perché il note 3 Pesa veramente tanto Però adesso lo sta facendo bene Quindi forse Probabilmente dipendeva Anche in precedenza Dal piano che stavo utilizzando Quindi la velocità Sembra costante Si fermerà Dopo un giro completo Eccolo là Premiamo su stop E il nostro note Elaborerà Una panoramica Perfetta Il timelapse Invece ovviamente È molto più difficile Farvelo vedere Perché dovrei stare qui Una giornata Avvio il timelapse Poi premo E questo lampeggio Ci fa sapere Che sta funzionando In questo caso Eseguirà un giro completo In In mezz'ora Poi magari Se avrò tempo Veramente di utilizzarlo Vi farò vedere Un po' i risultati Su youtube Se cercate Se cercate SpinPod Ci sono dei video bellissimi Bisogna anche essere In dei posti ovviamente Bellissimi Per poter fare Una cosa del genere Trovo il progetto Molto interessante Attualmente È in vendita Sul sito TheSpinPod.com A 60 dollari Scontato Oppure 70 Con il Dolly System Il Dolly System Praticamente è una struttura Che permette di utilizzare Questo SpinPod Come Come fosse un motore Per Per delle ruote Quindi Andrete a Comprare degli accessori In più Che permettono Di adattarlo Alle ruote Per far scorrere Il vostro Smartphone Ma Non solo Perché Questo gancio qua Può servire Per esempio Per montare Come suggeriscono loro Una GoPro Oppure Anche una Una macchina fotografica Però dipende ovviamente Dal peso Trovate poi Tutte le indicazioni Sul sito Per questa rapida prova Di SpinPod È tutto Un saluto Da Emanuele Cisotti Per Android World Punto I